L'ultimo quarto d'ora. Abbiamo smesso di giocare semplicemente, abbiamo smesso di fare le cose che siamo abituati a fare e di conseguenza, io l'ho sempre detto ai miei giocatori, penso che oggi sia una lezione importante per loro e per me per quanto riguarda ancora di più l'attenzione a fare le cose che dobbiamo fare in campo. Pensavamo semplicemente di gestire il risultato ma io l'ho sempre detto che noi siamo bravi se siamo attenti a fare determinate cose sia in fase di non possesso, non abbiamo fatto pressione, non abbiamo alzato mai il baricentro della squadra non abbiamo mai aggredito l'avversario nel modo giusto, abbiamo atteso e di conseguenza abbiamo preso due gol, tutto qua. Non è detto che sia direttamente legato ma il cambio di Gaeta togliendo l'unica punta poi di ruolo? Ah ma noi possiamo dire tante cose, hai ragione, chiaro che si possono dire tantissime cose, queste sono particolari che quando si vince io non credo che una sostituzione possa far vincere una squadra, quando magari si pareggia è chiaro che può essere giusto l'analisi che hai fatto però è chiaro che in quel caso lì visto che non giocavamo più dovevamo andare in ripartenza tipo l'azione che ha fatto Petrella che se metteva la palla in mezzo facevamo 3 a 1 e allora avevo azzeccato il campo. Quindi queste sono cose normali del calcio che io accetto volentieri. Ma infatti io sono molto molto tranquillo proprio sotto questo aspetto qui perché è un campionato, io lo dicevo oggi a diverse persone, è un campionato difficilissimo, non ci sono squadre, oggi tutti quanti erano convinti che magari era una passeggiata per noi. Qua è un campionato duro, lo continuo a ripetere, perché noi siamo una squadra competitiva però se non cresciamo, se non maturiamo tipo quello che è successo oggi è chiaro che va tutto bene e poi prendiamo gli schiaffi. Quindi ben vengano le partite come oggi perché sicuramente ci faranno crescere. Ma io penso che Gaeta abbia fatto una buona partita, ha lottato su tutti i palloni e nel secondo tempo è venuto anche molto bene, è venuto fuori molto bene. Tant'è vero che è arrivata alla conclusione diverse volte, ha tenuto il reparto bene. In mediana diciamo che abbiamo sofferto alla fine, sempre nel quarto d'ora finale, ma non è che ha sofferto la mediana, ha sofferto proprio la squadra in generale. Mi aspettavo qualche cosa in più proprio alla fine, a livello di possesso palo da parte dei mediani. Però la partita si era fatta praticamente strana e quindi, però per quanto riguarda i campi, penso che i linei di massima sono andati bene. Quando una squadra a un quarto d'ora dalla fine si trova sotto 2-0 a Teramo, contro secondo me una grandissima squadra, e riesce a prendere il risultato, dimostrazione di grande carattere, di grande organizzazione e di grande volontà. È un pareggio, secondo me, nell'arco della partita, da parte dei miei ragazzi, meritato, perché ci abbiamo sempre creduto. E devo dire, devo fare un elogio ai ragazzi, perché riprendere questa partita è dimostrazione di grande carattere. contro una grandissima squadra, la più forte che abbiamo vista oggi, e secondo me è una grandissima squadra. Devo dire che per noi venire qua a Teramo, per una piccola società così, è motivo di grande soddisfazione. Mi creda aver raggiunto il pareggio, è per noi un risultato fantastico. Pochi, un quarto, alla fine, avrebbero creduto di poterlo riuscire, ma noi non l'abbiamo mai mollato. Ho cambiato assetto due volte, e alla fine è stata premiata la volontà dei ragazzi. Noi eravamo partiti con un assetto diverso, cercando di tappare le loro giocchiate. Ci eravamo riusciti, concedendo solo il gol all'ultimo minuto su un errore individuale, e anzi, secondo me, sprecando alcune situazioni buone in transizione. Una volta presso il gol, ci siamo un attimino seduti, non reagendo. Abbiamo preso il secondo gol, ho deciso di cambiare assetto, e la squadra mi ha ripagato. Io non vedo questo assolutamente scandalo, il pareggio del tutto cuoio a Teramo. Ripeto, contro una grandissima squadra, devo dare dei meriti ai miei giocatori. Penso che era normale che loro gli ultimi minuti facessero l'Ambaggio, hanno messo anche una punta in più, quindi dovevamo soffrire, mancava pochissimo. Di solito riusciamo quasi sempre a portarla avanti, almeno da quando sono qui, non ci è mai capitato di fare un pareggio così alla fine. E' un peccato, è un peccato perché sono punti a mio avviso persi, però tutto sommato bisogna anche guardare che abbiamo fatto un punto e che forse ci può servire, sempre meglio di zero. Non ci possiamo più fare niente, ormai è andata, bisogna guardare avanti, cercare in tutti i modi di rifarsi subito domenica a Gavorrano con i tre punti. Grazie a tutti.